invidami eh non ti posso invitarli, ti dico il codice eh si si 084681 ciao a tutti amici benvenuti a Fasmophobia oggi siamo qui in compagnia del nostro caro compagno ad armi nevas e oggi faremo un po' di costadventures seguito siamo qui alla 6 tegan bulls drive a neviano ah mi prendo anche una una minchia oviga è sempre buona ok allora amici il nostro obiettivo se avete visto costadventures è molto semplice bisogna trovare i giudizi bisogna bestemmiare esatto ma perché non c'è la tecla? a noi è la luna libro spiritico pure importante me ne compro un altro no 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 ormai perf ai personaggi del l'obiettivo è quello di alla fine mettere il tacquino a terra o magari su una superficie e lasciare che scriva qualcosa lo strunzo ragazzi ancora non l'avete visti andate a vedere il video di Nathan Company e di Ixion E anche di Scum and Bones Ok, allora Risponde a tutti, Popo Ok Scatta una foto al fantasma Trova la prova di eventi paranormali Col lettore Allora, Gensel Io prendo Vai Lo Spirit Box Ok Il lettore E la torcia Io prendo una telecamera Il taccino E la fotocamera Bravo Allora, intanto possiamo aprire Che abbiamo 5 minuti di preparazione Si chiama Mac Ah no, Jack No, non lo nominiamo, però Ah, bello, spacco di botte Ma quindi se io prendessi Coco Spirit Non mi sentirebbe Sì, intanto risponde a tutti questo No, proprio se parlo così Cioè parlo No, perché devi mettere Push to Talk Stai crashato? No Perché? Ti vedevo baggato un attimo Vabbè Comunque Tu c'hai il Push to Talk sul gioco, no? Ehm Quale è il tasto, ma? Bhe Vaffanculo È Bhe? Sì Ah Ti sentivo? Ok, perfetto Quindi noi possiamo già partire? Esatto Ah Che è chiuso E le chiavi ce le abbiamo qua Ah, non le chiavi? Sì Allora Se il chiavi ti capi dove va Che fai? Da un po' Una foto Hai fatto un test Eh sì Se funziona Però non so dove si vedono le foto Allora Il sensore IMF qua non mi dice niente Però Però Allora Spengo tutte le luci Aspetta Spegni tutte le luci Perfetto Sta qua Sì Sì Qua davanti L'ho visto Aspetta Dove sei? Diete di te Non tu Dove sei? Dove sei? Fai un po' di luce? Cazzo Stavo qua Mi sono cagato addosso Passo Questa qui Sì Però Lo devi Lo devi preme Lo devi prendere E devi premere F Non G Perchè lo? Che faccio con F? F Lo posizioni Non lo droppi Vedi Chi è? So io Vediamo se lo uso Ho sentito un rumore Questo? Aspetta Questo? No Senti il rumore Mi sei in cucina Riprendilo? Eh non vedo Ok Ecco Aspetta Ecco Sta qua Dove sei? Spighito Scrivi qualcosa Su un taccuino Per favore Dove sei? Oh 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 Hai visto? Cosa? Come? Non hai visto? Sì ho sentito più È volato un oggetto Eh sì Ho sentito più Che visto Puoi rifare con un'altra volta Per favore Aspetta Sento qualcosa Chiedi a uno spirito Di scrivere qualcosa sul taccuino Però con gentilezza No ma quello l'ho fatto a sole E' buono Tu mi fai merci Mi sei? Mi sei? Dove sei? Mi sei? Sì Vi sto a teca Dove sei? Sei a mi che vuole? Sei a mi che vuole? ho ripreso il tappino non c'è più qua aspetta oh questo attacca via no 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 attacca mamma mia ho i brividi via 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 tranquillo allora andiamo fuori un attimo si si avvicina questa è infame minchia mi sono caduto addosso allora da qui no segniamo livello 5 temperatura non lo so spirit box no sfera di luce no ultravioletto non l'ho visto riproviamo sali vieni con me proviamo a prendere proviamo a prendere questo lo buttiamo che tanto l'abbiamo già usato io prendo ultravioletto tu prova a prendere il puntatore dots la fotocamera è una fotocamera e una tomba da qui non lo lascio che devo prendere? è il puntatore questo qua seguimi qui si attiva? ok così allora riproviamo è una torcia ce l'ho io vediamo se c'è qualcosa di ultravioletto vedo un cazzo mesce l'aria dalla bocca si quindi sta qua aspetta dove sei? sta qua è qua sei amichevole? oh hey can you hear me? scusi ok ok mi ha risposto perfetto c'è dritto? whatsapp mi ha detto come stai? ah spirit box va quindi è spirit of right o gemelli uno tra lo spirit of right allora vieni qua droppa il taccuino beh no ok adesso riproviamo a parlargli dove sei? tu ne hai chiesto in inglese no no aspetta io provo però non penso where are you? sei amichevole ok mi ha ascoltato ma non mi ha risposto luce rossa sei amichevole sfera di luce dove? no dove? ecco no ma sei mosso il quadro? comunque temperatura di congelamento questo lo vi ho letto o no? vero? no rimani qua anzi vai tu vai a prendere il termometro io rimango qua e gli parlo vieni qua è torna da me mi ascolti? dove sei? che poso? il dot? sì quello che riesci è quello sì sei amichevole? non c'è perché hai chiuso la porta? no l'hai chiusa lui e mai non posso andare? ma no aspetta posso andare? chiedegli perché hai chiuso la porta? mi ha ammazzato non è amichevole eh sì va bene vado no non è amichevole per incazzo però finisce subito la cosa la stamina sto coglione imperatore di... dovrebbe essere il wright o il wright o lo spirito vediamo no i gemelli infatti perché ho messo temperatura di congelamento e mi diceva i gemelli i gemelli qui l'abbiamo trovato poco attivo ecco lo buono sì di sì vabbè comunque ho capito più o meno come funziona è un po' è un po' è un po' è un po' è un po'